Ciao Angels, DJ famosissimo, come ti è sembrata questa conferenza? Mi è sembrata veramente molto bella e molto completa in quanto informazione. Le novità sono veramente molto belle, penso che il pubblico amante della musica latinoamericana apprezzerà tantissimo quello che sta facendo il Milano Latin Festival. E niente, i gruppi, è vero che c'è chi dice che il festival è molto cubano, e chi lo sa, ci saranno altre sorprese che può darsi e che si possono aggiungere durante la manifestazione. Comunque, buon festival, ragazzi. Tutti ci menterai in quali serate? Allora io sarò al mercoledì al Salsodromo, avremo una scelta musicale per le amanti, soprattutto della salsa lavacciata e poi vediamo che pubblico c'è nelle diverse piazze. Noi sappiamo che sei bravissima, hai di mestichezza, tu sei seguito molto bene la sala, ma quindi sarà sicuramente un successo per le tue serate. Ecco, sicuramente. Poi avremo tanti colleghi perché quel mercoledì sarà dedicato comunque a, diciamo che è in rappresentanza della Swissera come musica latinoamericana. Comunque sto preparando delle performance, degli ospiti che saranno presenti con me, non a carico al festival, a carico dalla Swissera, diciamo così, che mi aiuteranno a dare un po' più di carica alla pista. Grazie. Non saranno le sorprese.